E' un farmacista appena fatto il vaccino, che sensazione? Va bene, era una cosa necessaria, un atto dovuto e necessario, quindi non ho avuto alcuna sensazione. Sono state molto brave qui le infermiere e il personale per la gestione delle vaccinazioni in corso. Bene, per fortuna nessun dolore, va bene così. Aspettiamo adesso. Sono cento i farmacisti che oggi hanno ricevuto la prima dose del vaccino Moderna nel nuovo ambulatorio, allestito all'ingresso dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II. In lista altri 250 farmacisti, oltre a 1.400 medici di medicina generale, tra cui odontoiatri e pediatri che rientrano nella fase 1 della campagna vaccinale. A somministrare i vaccini il personale dell'oncologico, nell'equipe di vaccinazione, tra infermieri, un medico e un amministrativo dell'Istituto. Lo stesso ospedale, dall'avvio della campagna vaccinale, è stato hub di stoccaggio dell'ASL per vaccini AstraZeneca e Moderna, in un secondo momento anche per i vaccini Pfizer, conservati nei frigoriferi della Biobanca. Quasi completata la vaccinazione per medici e dipendenti dell'Istituto, 850, incluso il personale delle ditte esterne. Siamo già partiti con le vaccinazioni allargate, oltre ai nostri dipendenti, in ambito sanitario, anche a tutti quanti i medici della medicina generale, sin dal gennaio di quest'anno. Abbiamo fatto una quota di circa 250 medici di medicina generale. Continuiamo sia con i farmacisti che con i medici di medicina generale in un'attività sinergica con l'ASL Bari e il Dipartimento di Prevenzione. Grazie.